Le infrastrutture per condizione di sviluppo. È stato questo il titolo dell'incontro organizzato da fratelli d'Italia Fano a Palazzo Martinozzi, che ha visto protagonista l'assessore regionale Francesco Baldelli, che ha illustrato gli interventi previsti per il Fanese per oltre 65 milioni di euro. Recuperiamo, ha commentato l'assessore, quello che non era stato fatto in passato. Ci deve essere un equilibrio tra nord e sud delle regioni, tra grandi e piccoli centri, tra costa e dentro terra. Nella costa noi abbiamo la terza città delle Marche e non ce la possiamo dimenticare. Partiamo dalla sanità, dall'edilizia ospedaliera. Che cosa è previsto? Sono arrivati già i primi studi, i primi bozzetti della nuova struttura ospedaliera che va ad integrare il Santa Croce, che è una palazzina delle emergenze e urgenze. Prevediamo in proiezione un investimento di 25 milioni di euro affinché effettivamente anche durante le emergenze Fano possa rispondere adeguando i propri servizi, adeguandoli strutturalmente e lo vedremo anche nel prossimo piano socio-sanitario ridando un ruolo importante a questo ospedale. Per il Santa Croce abbiamo anche circa 10 milioni di euro da investire nell'ospice pediatrico e tutti quei servizi che vorremmo costruire attorno. Anche qui attendiamo il piano sanitario per partire poi con la pregettazione dell'ospice che ormai è negli atti della regione Marche per la città di Fano. Nella palazzina sono previsti il pronto soccorso, quattro sale operatorie, la terapia intensiva e quella semi-intensiva e la diagnostica dedicata al pronto soccorso che andrà a facilitare anche il lavoro degli operatori. Le tempistiche per la sua realizzazione sono quelle dettate dal PNRR, quindi nel 2026 la regione dovrà rendicontare allo Stato italiano e all'Unione Europea come sono state investite queste risorse. Passiamo alla viabilità con il casellino di Fenile, la strada delle barche e la ciclovia del Metauro. Altri investimenti importanti, abbiamo recuperato questo casello che è soltanto il punto di partenza di una nuova viabilità fanese della quale ci si era dimenticati o meglio le amministrazioni comunali sicuramente fanesi ritenevano importante questa infrastruttura viaria. Purtroppo con autostrade si erano interrotte le comunicazioni necessarie per poi poter realizzare l'opera dopo che nel 2012 i ministeri competenti avevano bocciato il progetto di allora. Lo abbiamo recuperato o meglio autostrade ha presentato alla regione Marche un'idea di casello che risponde anche alle indicazioni della soprintendenza. L'impatto sarà minimo sul territorio, ha rassicurato Baldelli. Dobbiamo risolvere, ha detto, il problema della strada statale 16 e del collegamento tra Marotta, Fano e Pesaro. Investimenti previsti anche per il Codma di Rosciano, l'ex Forobuario e per le Aule del Nolfi. In quest'ultimo caso la provincia ha presentato un progetto alla regione che è stato finanziato con 6,2 milioni di euro. A questi vanno aggiunti finanziamenti per la ventilazione meccanica controllata. Uno studio del professor Ricolfi e della fondazione IUM ha dimostrato che con la ventilazione meccanica controllata e con almeno 5,6 ricambi d'aria all'ora, la probabilità di essere contagiati dal Covid ma anche di abbattere le altre patologie, pensiamo alla semplice influenza, si riduce dell'82,5%. Poi l'investimento sul Codma, 1.350.000 euro, alcuni lavori sono ancora in corso, sulla palazzina direzionale. Diciamo abbiamo riqualificato uno spazio di proprietà regionale molto importante e strategico per la città di Fano ma per tutta la provincia di Pesaro e Urbino. Quindi una grande ricchezza che può diventare un moltiplicatore delle iniziative fanesi della Valle del Metauro e della provincia di Pesaro e Urbino per portare ricchezza in questi territori. Questa sera è un importantissimo incontro sulle infrastrutture, ringraziamo il Circolo di Fratelli d'Italia di Fano che ha invitato l'assessore all'infrastruttura Francesco Bardelli. L'aria nelle Marche è cambiata, è cambiata in tutta la regione, ci sono grandi investimenti che la regione guidata dal Presidente Acquaroli sta facendo nei nostri territori, edilizia scolastica, edilizia sanitaria, il nuovo casello. Ricordiamo che nuove infrastrutture significa sviluppo economico e prosperità per il nostro territorio. Finalmente la regione Marche pensa alla terza città delle Marche che è Fano, quindi non possiamo che essere grati alla giunta Acquaroli e all'assessore Francesco Baldelli. Temi importantissimi soprattutto per la città di Fano che la vede coinvolta in importanti investimenti da un punto di vista economico e che chiaramente determineranno una qualità sicuramente migliore della vita di tutti i cittadini. Questi incontri sono assolutamente fondamentali e propedeutici proprio per, al fine di far conoscere alla cittadinanza tutta, quello che appunto è l'operatività in seno del Consiglio regionale, che molto spesso si apprende così sommariamente dalla stampa ma non si ha la concezione concreta di quello che in realtà si sta facendo.